Ad ottobre sarà noto il futuro dell'ospedale Sacra Famiglia di Nova Feltria. Dopo l'estate, il direttore dell'Ausl Romagna, De Dorides, presenterà il piano delle azioni alla conferenza locale per la sanità in presenza dei sindaci. In quell'occasione si parlerà nuovamente del tema della trasformazione di alcuni nosocomi in ospedali di comunità, luoghi di ricovero per pazienti con malattie non acute, assistiti da personale infermieristico senza una presenza medica continuativa. E quanto potrebbe accadere al Sacra Famiglia, ma anche al Franchini di Sant'Arcangelo e al Cervesi di Cattolica. Per l'ospedale di Nova Feltria è una prospettiva lontana perché la struttura copre una vasta porzione di territorio. Non sono da escludere però nuovi tagli, anche se il primo cittadino Lorenzo Marani ha spesso ribadito il no a nuovi sacrifici. Giovedì a Rimini i sette sindaci dell'Alta Valmarecchia hanno incontrato De Dorides, assieme a Roberto Piva, vicepresidente della Commissione regionale sulle politiche sanitarie e sociali. Sicuramente va a buon fine, va il completamento dell'RSA, anzi la regione addirittura si farà carico della quota che era prevista carica anche dell'ASL, quindi c'era ASL, regione e comuni, una garanzia che il lavoro andrà avanti. L'ospedale di Nova Feltria è un ospedale che farà parte, oggi si usa il termine reticolo ospedaliero, farà parte del reticolo ospedaliero che usa l'azienda, quindi tutti questi timori di chiusura sono assolutamente infondati. I sette sindaci sono sicuri che i servizi sanitari e sociali per la popolazione dell'Alta Valmarecchia saranno all'altezza delle necessità. Il commento di Marani in una nota a margine dell'incontro, ancora quattro mesi, poi verrà tolto il velo sul destino dell'ospedale Sacra Famiglia.